perché amico mio perché proprio a te perché no no marco no anche tu no come farai adesso a vivere marco come farai bannato così da twitch sappi che ti sono vicino marco puoi scrivermi ti sono vicino nonostante tutto nonostante tutto ti voglio bene mi dispiace davvero mi dispiace anche ivan greco no la mia vita non ha più senso senza voi come farò come faremo no ivan greco no dopo tutte le tue verità dopo tutte le tue bellissime verità come è potuto succedere sappi che nonostante tutto potrai contare su di me anche tu anche tu ci sarà spazio per te anche per te nel mio cuore e su youtube